amici sportivi amici fantallenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio sono davvero contento di fare questo video su un giocatore che adoro su un giocatore clamoroso su un giocatore che Ranieri ha voluto fortemente a Cagliari per questo motivo dobbiamo porci tante domande tanti dubbi se vale la pena se varrà la pena a mio avviso assolutamente sì andare a puntare su un giocatore come Gaetano Oristano un giocatore cilentano e quindi sono molto affezionato anche soprattutto per questo motivo di trattarlo l'ho già trattato qualche settimana fa lo trattiamo ancora perché sono cambiati gli scenari per questo motivo dobbiamo darci una forte mano e condividere insieme tutte le informazioni questo è il senso del canale del veterano un canale che sta crescendo molto bene grazie a voi grazie a chi farà ancora questi passaggi importanti di condivisione di sponsorizzazione informale tramite gli amici tramite gli avversari di fantacalcio tramite anche chi non giocherà a fantacalcio però è importante fare questa condivisione è importante per tutti voi fare anche un altro passaggio cliccare il link qui sotto di fantalab che permette di accedere a delle funzionalità clamorose inaspettate veramente di altissimo livello e io ve lo consiglio vivamente vi consiglio di fare questo passaggio veramente importante utilizzate anche la funzione premium per abbonarvi direttamente in app e soprattutto chi sarà poi abbonato in area premium avrà diritto a tanti vantaggi uno tra tutto è quello di avere gratuitamente poi il master del veterano master che sarà fondamentale al fine di preparare al meglio dal punto di vista psicologico e strategico la prossima asta del fantacalcio passiamo grazie a F10 scout all'analisi di Gaetano Ristaneo grazie soprattutto all'amico Tommaso che ci fornisce schede in continuazione Gaetano Ristaneo un giocatore del 2002 nato a Vallo della Lucania cresciuto a raccadaspide quindi vicinissimo a casa mia alto uno e settantaquattro sinistro di piede ma usa entrambi i piedi ruolo trequartista altre posizioni sfruttate anche quella di Ala attualmente l'ha preso il Cagliari con scadenza di contratto a giugno duemilentiquattro vedremo poi come saranno i riscatti contro riscatti e prestiti vediamo la carriera di Ristaneo eh ha iniziato la sua carriera giovanile nel vivaglio dell'Inter dove vince due campionati consecutivi nel duemilentuno viene ceduto in prestito al Volendam squadra di seconda divisione irlandese ma in orbita Inter visto che il suo mister è Wim Young ex Inter la sua prima stagione tra professionisti si conclude con sette reti e la promozione massima serie l'anno successivo viene esteso in prestito a fine stagione e contribuirà alla salvezza del club il venti luglio duemilentitré viene ceduto in prestito al Cagliari quindi la sua carriera è Inter under diciassette Inter under diciannove Volendam Salernetano a breve finestra poi Cagliari quindi veramente molto bene finora descrizione tattica tecnica scusate Gaetano Oristanio è un calciatore tecnico dotato di eccellente dribbling e grande controllo di palo e movimento buona agilità e velocità è in grado di superare gli avversari con disinvoltura aggiungendo una dimensione imprevedibile al suo gioco la sua creatività e capacità di improvvisazione lo rendono un giocatore imprevedibile Oristanio è bravo a leggere il gioco e a fornire passaggi precisi e creativi per i compagni di squadra notato di un tiro potente e preciso sia da distanza che in area di rigore questo gli consente di segnare i gol importanti e contribuire all'azione offensiva della squadra il giocatore mostra una forte foga agonistica e un buon impegno nel recupero della palla nonostante la sua posizione passiamo ora all'iscrizione tattica Gaetano Oristanio viene impiegato principalmente come trequartista o centrocampista avanzato ma può giocare in diverse posizioni offensive ha un'ottima capacità nel leggere il gioco e capire gli spazi il che gli permette di creare opportunità per i compagni di squadra attraverso passaggi e movimenti intelligenti Oristanio ha un buon senso del posizionamento in campo e sa come muoversi per trovare gli spazi giusti e creare occasioni pericolose una sua caratteristica peculiare è la predisposizione a partecipare al gioco di squadra infatti nonostante la sua posizione offensiva Oristanio è disposto a contribuire anche nella fase difensiva aiutando nella pressione sui avversari e nel recupero palla e questo chiaramente viene molto positivo anche per il fantacalcio visto che pagelisti queste azioni le premiano abbondantemente descrizione fisica Oristanio si contraddistingue per ottime metodi fisiche e capacità condizionali queste includono una grande agilità nel cambiare direzione durante il dribbling grande velocità che gli consente di muoversi rapidamente e di essere pericoloso negli spazi e buona resistenza aerobica il giocatore è dotato di una discreta forza fisica che gli permette di reggere il confronto con gli avversari durante le sfide in campo una sua caratteristica è la rapida ripresa è in grado di recuperarsi rapidamente dopo sforzi intensi mantenendo un alto livello di prestazione durante tutta la partita descrizione mentale Gaetano Oristanio ha una grande ambizione nel raggiungere traguardi importanti dimostrando di avere fiducia nelle proprie capacità questa fiducia il consente di affrontare le sfide con determinazione e di essere sicuro delle decisioni in campo ha dimostrato di essere in grado di mantenere la calma e di prendere decisioni rapide anche in situazioni di alta pressione durante le partite come detto in precedenza il suo contributo alla fase difensiva e a collaborare con i compagni mettono in luce la sua mentalità di squadra e quindi questo è un altro punto grande favore per quanto riguarda anche il fantacalcio visto che il sacrificio altrui se il mutuo aiuto è quello che incide tanto anche per il fantacalcio e per i pagellisti per i voti in pagella passiamo alle conclusioni Gaetano Oristanio rappresenta una delle giovani promesse più interessanti del calcio italiano la sua versatilità tattica e la sua tecnica lo rendono un giocatore promettente e prezioso per qualsiasi squadra in cerca di una componente offensiva creativa e dinamica nel 4 3 1 2 di Ranieri potrebbe essere una mila vagante diamo fiducia al mister che sa valorizzare i giocatori di talento e questa è una bellissima scheda fatta dai felici scout in particolare dall'amico Tommaso che ringrazio ancora perché veramente il lavoro che stanno facendo è un lavoro di eccellenza per un canale importante come quello del veterano e quindi un grazie di cuore per questi ragazzi che stanno facendo veramente un super mazzo anche voi andate a conoscerli perché veramente sono di alto alto livello quindi cosa fare per il fantacalcio su Oristanio è la classica scommessa in questa fase da prendere come giocatore a prezzo base uno infatti vedete nella nuova grafica per cui ringrazio l'amico calza che si sarà sbattendo un casino ci ha proposto abbiamo messo un prezzo base uno ecco prezzo base vuol dire un credito ma effettivamente oggi un giocatore come Oristanio va preso solamente un credito perché effettivamente non c'è interesse da parte della concorrenza che ha fantacalcistica ad andare a prendere magari tra un anno il prezzo sarà diverso io me lo spiego me lo auguro anzi lo credo vivamente infatti ho messo come popolarità 5 su 10 perché un giocatore ancora poco conosciuto quindi ecco se devo fare una stima da 0 a 10 è un giocatore come Oristanio viaggia proprio a metà ecco pochissimi pochissimi lo conoscono facendo anche dei sondaggi con gli amici della community diciamo che stiamo a metà quindi 5 su 10 vuol dire che si va a prendere un prezzo molto interessante c'è il discorso titolarità per cui ho messo 60 per cento chiaramente sarà a mister ranieri farlo entrare gradualmente ma poi alla fine credo che un posticino in rosa quantomeno lo si possa prendere quantomeno andrà mediamente tantissimo a voto e quindi per questo motivo ho messo 60 per cento dovrebbe essere un centrocampista da valutare la il mantra io ho messo wpa come doppia doppia staremo a vedere con i listoni ufficiali quale sarà effettivamente la quotazione e anche la posizionamento delle dei ruoli per quanto riguarda sia fantacalcio classic sia fantacalcio manta però soprattutto se avete contratti manageriali con fantamanageriali con i vostri amici e se avete contratti biennali trennali suo ristagno una scelta importante deve essere fatta avete visto la scheda quanto ha meritato e quanto bisogna andare a puntarci sul giocatore cilentano un abbraccio a tutti voi cliccate lì qui sotto di fantalab fate quello che dovete fare per fare un po di condivisione al canale veterano vi abbraccio forte buono studio fantacalcio vi ricordo che il fantacalcio è il gioco più bello del mondo dopo il calcio buono studio ciao ragazzi a presto grazie a tutti i nostri amici e a presto grazie a tutti i nostri amici e vi intendiamo i nostri amici e vi aspettiamo mi